Giocare in Serie A credo sia molto diverso da un campionato di B, quindi si troveremo maggiore fatica, quindi stiamo lavorando bene per cercare di far trovarci pronto all'inizio del campionato. Le sensazioni sono positive, poi siamo stati fortunati ad aver mantenuto comunque un gruppo solido, vecchio dell'anno scorso, quindi adesso stiamo soltanto aspettando i nuovi iniesti per poter completare la rosa. Però stiamo lavorando bene, i ragazzi che sono arrivati sono inseriti molto bene e niente, solito come l'anno scorso pedalare e correre tanto per mettere in difficoltà tutti quanti. È stata veramente una stagione fantastica, poi averla chiusa così in casa e aver alzato la Coppa, quindi è stata un'emozione fantastica. Però rimane soltanto un ricordo e via, un ricordo del passato, adesso pensiamo a questa nuova stagione e credo che il nostro scudetto, la nostra vincita, credo che sia la salvezza di Maracueli, quindi se dovessimo raggiungere quel traguardo sarebbe una cosa ancora più magnifica.